I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania in mattinata hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ufficiale giudiziario in servizio presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Il funzionario, peraltro già oggetto di indagini per fatti analoghi, è stato sorpreso dai militari nel momento in cui costringeva un privato cittadino a farsi consegnare del denaro per effettuare un atto del profilo ufficio, ovvero un'esecuzione di pignoramento. L'arrestato dopo le formalità di diritto è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania a disposizione dell'autorità giudiziaria.